Grazie a tutti. Parlerà, tra le altre cose, anche di un'esperienza molto interessante, secondo me, il registro per l'endometriosi. Prego. Grazie al moderatore per avermi dato la parola. Buongiorno a tutti. Grazie a Marisa per l'organizzazione di questo splendido evento. L'energia, l'entusiasmo e la professionalità dimostrate nell'organizzazione di questa giornata ritengo che saranno da esempio per molti di noi. Mi è stato chiesto di parlare dell'esperienza del nostro ambulatorio di endometriosi e del dolore pelvico cronico e di parlare anche di un'altra esperienza, quella del registro dell'endometriosi, una cosa cominciata tanto tempo fa quando mi sono reso conto che necessitava di uno strumento per conoscere meglio questa malattia. Un'esperienza che poi è cominciata e, come ci diceva poco anzi la professoressa Coccia, probabilmente diventerà una legge. Per parlare di questo, probabilmente è necessario introdurvi anche qualche piccolo dato in più. Noi sappiamo che grosso modo l'endometriosi incida in 10-12% delle donne in età fertile e questo trend è in aumento. Abbiamo dei dati sulla endometriosi che sono assolutamente approssimativi, ma guardate il riquadro in basso. L'esatta prevalenza e incidenza dell'endometriosi in atto non sono conosciute. Abbiamo dei dati che prendiamo molto spesso da altre realtà. Per esempio questi sono i dati pubblicati al Senato e alla Repubblica e che derivano dagli Stati Uniti. Ancora abbiamo dei dati demografici che in Italia, che però prendiamo dai dati delle schede di dimissione ospedaliera, che sono sempre dei dati piuttosto antichi, o dalla spesa farmaceutica ottenuta dal Sistema Sanitario Nazionale. Ma sono dei dati estremamente frammentari, sono dei dati estremamente limitati ad un aspetto della malattia endometriosi, che può essere per esempio il costo di alcuni farmaci o i ricoveri ospedalieri in un determinato anno. Anche il dato più importante, quello che 3 milioni di donne siano affette grossomodo da endometriosi in Italia, è un dato che proviene da un dato degli Stati Uniti, che poi è stato adattato al dato italiano, prendendo in esame la popolazione generale italiana, dividendole in due, perché metà sono donne, e quindi applicando questo dato. Quindi è un dato assolutamente così ricavato. Ma quante donne siano in atto affette ad endometriosi in Italia, questo non lo sa nessuno. Quindi questi e tanti altri sono gli aspetti controversi di questa malattia. Ma una cosa ancora più importante è che la diagnosi, la terapia e soprattutto il follow-up della paziente con endometriosi spesso vengono affidati a decisioni cliniche che appaiono poco aderenti alle indicazioni derivanti all'analisi dei dati e della letteratura. Perché quando noi ascoltiamo quello che si dice ai congressi, quelli sono dati che derivano dai centri di riferimento. Ma cosa succede alla paziente che va dai ginecologi che sono distribuiti nel territorio? Questo è un dato che per molti aspetti sfugge. Bene. L'endometriosi tra l'altro non è soltanto dolore pelvico e infertilità, è un problema che va affrontato nella sua interezza perché comporta oltre che dei costi di tipo sanitario, anche dei costi di tipo sociale dei quali bisogna tenere conto in maniera assolutamente adeguata. Quindi emergono delle necessità. Un rapido riconoscimento della malattia, un inquadramento clinico e un trattamento che non è soltanto chirurgico ma è anche medico, un approccio multidisciplinare, una continuità assistenziale. Questa diapositiva l'avete già visto, esistono in letteratura dei modelli ma che sono difficili nella nostra realtà sanitaria da raggiungere. Noi con molta, molta più, diciamo, modestia abbiamo instaurato due tipi di realtà. Un ambulatorio per la diagnosi e cura dell'endometriosi e un ambulatorio multidisciplinare del dolore pelvico cronico. Quindi io in alto vi parlo di come ci siamo organizzati per seguire le pazienti con endometriosi e poi vi spiegherò da quel background di cui vi ho appena detto, cioè da questa incertezza dei dati e dall'esperienza clinica perché è nata l'idea di fare un registro. L'ambulatorio del dolore pelvico cronico, il dolore pelvico cronico, lo dico a chi non è un medico, è quel dolore intermittente o costante del basso addome che duri da almeno sei mesi, non correlato alla gravidanza né esclusivamente alla mestruazione o ai rapporti sessuali. È un'entità abbastanza importante in ginecologia perché causa il 10% delle visite ginecologiche ambulatoriali, del 40% della laparoscopia ginecologica e del 10-15% di tutte le isterectomie. Può essere sintomo di una malattia ginecologica ma anche di malattie da cause estraginecologiche e molto spesso comporta nella donna la necessità di sottoporsi a visite specialisti, a terapie mediche e anche a interventi chirurgici spesso senza risultati. Quindi facendo nascere il timore che questo dolore venga riferito nella testa e quindi con ancora una volta enorme dispendio di tipo sociale ed economico. Allora l'esigenza di creare questo ambulatorio perché quando una donna afferiva all'ambulatorio di endometriosi poi dopo il work-up diagnostico si scoprìva che non aveva l'endometriosi questa donna tendeva ad uscire dall'ambulatorio di endometriosi e restava un po' abbandonata a se stessa. Adesso invece afferisce a questo ambulatorio che garantisce un approccio olistico, un interdiagnostico personalizzato. Perché multidisciplinare? Perché il dolore per il bico cronico può essere da causa ginecologica ma anche da causa gastrointestinale, da causa urologica, da cause muscoloscheletriche e da cause psicologiche. I nostri psicologi che condividiamo con l'ambulatorio di endometriosi hanno scoperto che in alcuni casi il dolore pelvico cronico preesisteva una violenza sessuale che non è necessariamente un grosso evento, anche delle violenze molto molto subdole che queste donne da bambina avevano subite e che poi erano causa di dolore pelvico cronico e il ricordo di questa causa si è rimosso anche il dolore pelvico cronico. Questi dati sono già pubblicati. Come funziona? La paziente afferisce, fa un primo colloquio col ginecologo per anamnesi, visita ginecologica, mapping del dolore, ecografia pelvica, esami microbiologici e poi le viene fornito un diario mensile del dolore che deve compilare. Il diario è uno strumento importante perché ci consente di conoscere meglio il dolore e l'impatto che questo dolore ha nella vita quotidiana di questa donna. Questo è il diario, si legge molto male perché ho faticato a farla entrare nella dia. Al secondo incontro la paziente consegna e discute il diario del dolore con il medico, viene posto il sospetto diagnostico di dolore da causa ginecologica o extra ginecologica e quindi poi o fa la terapia medica e la terapia chirurgica se di pertinenza ginecologica o viene mandata a consulenza. Le consulenze possono essere gastroenterologiche, urologiche, ortopediche. Il radiologo vascolare interventista, pensate a tutte le cause di dolore pelvico date da vari coscele pelvico, le abbiamo cominciato a trattare con un trattamento mini-invasivo di scleroembolizzazione, stiamo avendo dei buoni risultati. Lo psicologo che entra in vari motivi, già ve ne ho accennato uno, è il terapista del dolore che molto spesso ci ha dato una mano d'aiuto nei casi in cui il dolore è da causa un po' sconosciuta. L'ambulatorio di endometriosi invece, ne abbiamo già parlato in vari modi, vi dico un po' che succede alla paziente con endometriosi che arriva nel nostro ambulatorio. arrivano, dedichiamo una giornata, un po' come fanno i nostri colleghi, che è il mercoledì mattina, queste pazienti che sono dieci per ogni giorno, vengono raccolte tutte in una stanza dove fanno un primo approccio con il collega psicologo, il collega ginecologo, l'infermiera ad essere dedicate. Quindi c'è questo momento di condivisione in cui ci si conosce tutti, poi si consegnano dei questionari, si parla un attimino della malattia, poi alcune pazienti vanno nella stanza del colloquio con lo psicologo, quelle che lo richiedono, le altre vanno nella stanza con il ginecologo dove hanno la possibilità di fare un work-up completo perché in quella stanza ovviamente c'è tutto quanto è necessario. Ovviamente il personale è dedicato. Ecco, abbiamo festeggiato questa settimana dell'endometriosi dedicando ai nostri pazienti una nuova iniziativa, l'abbiamo chiamata Vivendo, ed è uno sportello dedicato, uno sportello di sostegno e di aiuto psicologico dedicato ai pazienti con endometriosi che non fanno parte del nostro ambulatorio. Quindi se c'è una paziente che è seguita da un ginecologo, che per esempio sta a Trapani o a Catania e che vuole afferire soltanto per un sostegno psicologico può rivolgersi a questo sportello e in maniera assolutamente gratuita può appunto avere il sostegno e il supporto psicologico sia lei che i suoi familiari. E vi ho sottolineato da questa rassegna stampa lo sportello arricchisce ulteriormente la gestione clinica, il supporto sociale alla paziente affetta ad endometriosi soltanto perché fino a qualche anno fa sentire parlare di supporto sociale per la paziente con l'endometriosi era una cosa veramente rara. Il fatto che oggi siamo tutti qua e che qualche giornalista si dice una cosa del genere credetemi è una cosa che va assolutamente sottolineata. I criteri di accesso sono quelli dei quali già abbiamo parlato. Sicuramente il internet è la via di accesso fondamentale al nostro ambulatorio di endometriosi. Ci sono degli strumenti che tutti quelli che fanno un trattamento di eccellenza, forse il termine è esagerato, e l'endometriosi devono avere una cartella clinica personalizzata, l'utilizzazione di scala di misurazione del dolore, la VAS ritengo sia quella più condivisa, e noi valutiamo la qualità di vita di una paziente con l'endometriosi utilizzando l'endometriosi self-profile, del quale già avete sentito parlare, che è una valutazione della qualità di vita e non del dolore. Grazie. Grazie a tutti